Una buona giornata dalla redazione di live Brescia TV, benvenuti a questo primo appuntamento con il nostro telegiornale che apriamo in primo piano con la polemica delle istituzioni per quanto riguarda il controllo sul tema caldo della stazione di Brescia. Ieri c'è stato un tavolo di confronto al quale hanno presenziato il prefetto, il questore di Brescia ma soprattutto il comune di Brescia nella figura di Emilio Del Bono e anche Carabinieri Guardi di Finanza. Davvero un tavolo a 360 gradi per cercare di risolvere quello che è un problema sicuramente importante ma, ripetiamo, le istituzioni sono al corrente di quanto accade nel perimetro della stazione e sono pronti a continuare a combattere la criminalità. Le accuse sono ingiuste e non veritiere, gli arresti sono centinaia. Così il questore di Brescia, Leopoldo Laricchi, ha respinto al mittente le accuse di abbandono della stazione in una situazione di degrado durante il tavolo convocato ad occhi in prefettura. Alle sue parole ha fatto e col sindaco Emilio Del Bono, che ha ribadito come sia falso quanto detto negli scorsi giorni in merito alla mancanza di forze dell'ordine nella zona. Durante l'incontro con il prefetto è stato fatto un punto sui numeri dei controlli e sulle operazioni che quotidianamente si tengono in stazione. Oltre alla presenza costante dell'esercito dal primo treno all'ultimo della giornata, sono stati 153 gli interventi ad alto impatto, 1731 gli agenti impegnati, 218 i controlli complessivi nei locali. Le persone sottoposte a verifica sono state 5755, 50 gli arresti in flagranza di reato, 150 le persone indagate, 18 le misure cautelari per droga, 58 le persone segnalate come consumatori da luglio dello scorso anno a febbraio del 2020. Presenza quotidiana anche della polizia locale, con 221 servizi e un giorno a settimana di controlli a tappeto. Nei primi sei mesi dell'anno sono state 20 le persone arrestate o denunciate per spaccio di droga, 9 nelle ultime due settimane. Nel periodo dell'emergenza sanitaria le persone sanzionate sono state ben 99. In stazione sono presenti anche i carabinieri con 10 arresti per spaccio, 19 denunce e 27 persone segnalate da inizio anno, così come la Guardia di Finanza che nel 2020 ha effettuato 25 interventi, 5 arresti e 12 persone denunciate. E adesso sentiamo dalla viva voce quello che è stato il tavolo di confronto del quale abbiamo parlato poc'anzi e con il quale abbiamo aperto il nostro telegiornale. I nostri microfoni il prefetto di Brescia Tiglio Visconti e il questore Leopoldo Racco. Un'attività investigativa importante, quella della stazione, un problema che le istituzioni stanno cercando di risolvere e sono molto attenti a questo tema. Esatto, noi abbiamo acceso oggi un focus su un punto focale della città che è appunto la stazione e lo abbiamo fatto perché volevamo dare delle risposte concrete al senso di insicurezza dei cittadini e abbiamo dimostrato che per tutto un anno, dal primo luglio dell'anno scorso a quest'anno, i servizi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Gabinieri e della Finanza sono stati numerosissimi e sono stati numerosissimi anche i controlli dei cittadini, ai controlli dei locali e così come tutte le vie di mitrofe sono state sempre pattugliate e vigilate anche in tempi di coronavirus. Questo deve essere noto ai cittadini, deve essere compreso lo sforzo delle forze di polizia e deve fare notizia anche il fatto che tutti i giorni sono in piedi dei servizi straordinari in varie zone della città, non limitati soltanto alla stazione ma anche in altre realtà. Il comitato dell'Ordo di Segurezza Pubblica che io presiedo controlla e vigila su questo andamento e coordina questa attività e sono convinto che anche nelle prossime settimane queste attività continueranno, non molleranno mai o anche tutta l'estate. Il problema della stazione è un problema ben presente, è un problema che come hanno detto molti residenti che esiste da molto tempo, c'è un problema di spaccio, c'è un problema di vagabondaggio, c'è un problema in generale di riduzione della percezione di sicurezza. Però questo è un problema che stiamo affrontando, stiamo affrontando, io da quando sono qua ho dato i dati adesso, abbiamo fatto 152 servizi d'alto impatto solo sulle stazioni e i numeri poi sono numeri molto importanti anche come in provvedimenti repressivi sia sui locali che sulle persone. Con uno stanziamento di 90 mila euro Fondazione Spedali Civili di Brescia crede nella ricerca, in particolare quella di IFOM, per cercare di arginare la forza del coronavirus. Sentiamo. Il Covid-19 ha cambiato la nostra esistenza, ha cambiato le nostre vite. La convivenza con il virus rimarrà fino a quando almeno non ci sarà un'idea di vaccino di massa. Fino ad allora vigeranno le regole del protocollo sanitario in voga di questi tempi, ma la scienza prosegue veloce il suo cammino sulla strada verso una conoscenza sempre più approfondita del nemico invisibile. Da questo proposito nasce la convinzione di Fondazioni Spedali Civili di Brescia la quale ha stanziato 90 mila euro per il progetto Coronaid Iperimmuni. È l'IFOM di Milano a guidare la ricerca con a capo Stefano Casola. Progetto che nasce da un'alleanza strategica tra l'Istituto Fierchi di Oncologia Molecolare di cui io rappresento un po' il laboratorio, l'Istituto e gli ospedali civili di Brescia e ha l'obiettivo di superare i limiti attuali che abbiamo nel monitoraggio della infezione da Covid-19 e anche nella possibilità di dare una terapia a questi pazienti in una fase in cui il vaccino non è ancora disponibile. Nel team fanno parte Camillo Almici, direttore di Immuno, Ematologia e Medicina di Trasfusione, l'SST, Spedali Civili di Brescia, Raffaele Badolato, direttore della Scuola di Specializzazione Pediatrica dell'Università di Brescia. L'obiettivo comune per l'equip sarà quello di generare la più estesa libreria di geni immunoglobinici diretti contro il virus SARS-CoV-2. Quindi diciamo l'obiettivo di questo studio nasce da isolamento di cellule del sangue dei pazienti che hanno fatto l'infezione. Si tratta di linfociti che sono quelli che hanno risposto al virus producendo gli anticorpi. Queste cellule verranno isolate qui agli ospedali civili di Brescia e da queste cellule verrà estratto il DNA, il materiale genomico, da cui noi potremo isolare le sequenze genetiche che codificano per questi anticorpi. Il vantaggio di questo approccio è che avendo le informazioni genetiche noi potremo poi sintetizzare in laboratorio grandi quantità di questi anticorpi che potrebbero a questo punto essere utilizzati per due obiettivi principali. Il primo è di sviluppare un test diagnostico di seconda generazione lo chiamo io, cioè un test diagnostico che supera i limiti attuali. Il secondo obiettivo del nostro studio è di produrre degli anticorpi in laboratorio che possono rappresentare un'alternativa al cosiddetto plasma iperimmune, che è questa nuova terapia che viene attualmente utilizzata e che prevede la trasfusione di plasma da pazienti che hanno fatto la malattia in pazienti che sono infetti. Sentiamo a tal proposito la Presidente della Fondazione degli Ospedali Civili di Brescia. Oggi vi presentiamo un progetto molto importante, un progetto scientifico che si chiama Coronaide Iperimmuni e che vede la collaborazione di un istituto di ricerca riconosciuto a livello nazionale ma soprattutto internazionale come IFOM di Milano e gli ospedali civili di Brescia. Per noi è un momento di grande soddisfazione e orgoglio perché IFOM è venuta a cercare gli ospedali civili di Brescia, non è andata in altri luoghi, quindi significa che qui a Brescia c'è la capacità di supportare la ricerca e di fare ricerca ad altissimo livello nazionale ma soprattutto internazionale. Infatti la ricerca è uno dei punti forti non solo degli ospedali civili ma anche della città intera che ha vissuto davvero questo periodo con grande difficoltà ma sembra riuscire a rialzarsi. Sì, io vorrei dire sia Brescia che Bergamo sono state colpite in modo veramente incredibile da questa pandemia in Lombardia e in Italia. Però la ricerca, la voglia di conoscere, la voglia di capire, la voglia di studiare questa malattia per poter trovare terapie, poter trovare motivazioni scientifiche che diano la spiegazione del perché il virus agisce in questo modo sul corpo umano sono sempre state fattori di grande spinta per tutti i professionisti, i medici, i ricercatori che lavorano all'interno degli ospedali civili. Vi vuol dire il suo nome e cognome e la carica per il sottopatto? Io sono Marta Nocivelli, presidente di Fondazione Ospedali Civili di Brescia. Dunque questa era la testimonianza importante della presidente di Fondazione Ospedali Civili. Ora cambiamo decisamente argomento, andiamo a trattare del passaggio di UbiBanca a Intesa San Paolo. Ora è ufficiale, dunque questi sono gli scenari che si prospettano per il futuro. UbiBanca non è più bresciana, né tanto meno bergamasca. Con due giorni di anticipo sulla scadenza dell'OPS, offerta pubblica di scambio lanciata da Intesa San Paolo, UbiBanca viene acquistata da Banca Intesa e nasce così il nuovo colosso bancario, il settimo in Europa. Un colosso che farà registrare un utile non inferiore ai 5 miliardi di euro nel 2022, diventando uno dei primi gruppi dell'Eurozona. Un grande gruppo che grazie a radicamento nei territori di appartenenza sarà capace di rafforzare il sistema finanziario italiano e potrà ricoprire il ruolo di leader nello scenario bancario europeo, ha più volte dichiarato Carlo Messina, CEO di Intesa San Paolo, nel corso degli ultimi mesi. Proprio la creazione di un grande gruppo a livello europeo e di rafforzamento della leadership in Italia è stata una delle motivazioni che hanno portato all'offerta pubblica di acquisto e scambio su Ubi, che ieri ha raggiunto adesioni al 71,91%, oltre la soglia del 66,67% e con due giorni di anticipo rispetto alla chiusura del periodo di conferimento. Come imposto dall'antitrust, con l'acquisizione di Ubi, Intesa San Paolo dovrà cedere 515 sportelli a Biper. L'unione delle due banche, secondo le previsioni, porterà a numeri molto significativi. La montare degli impieghi sarà di circa 460 miliardi di euro. Il risparmio che gli italiani affideranno alla nuova banca supererà il valore di 1,1 trilioni di euro. I ricavi saranno pari a 21 miliardi. Prorogato lo stato d'emergenza fino al 15 di ottobre, andiamo a sentire le parole del Premier Giuseppe Conte. L'Aula del Senato ha approvato la risoluzione presentata dalla maggioranza sulla proroga dello stato di emergenza. Il testo, presentato dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e che ha ricevuto il parere favorevole dell'esecutivo, ha avuto il via libera con 157 voti favorevoli, 125 contrari e 3 astenuti. La risoluzione impegna il governo a indicare come termine ultimo per lo stato di emergenza nazionale il 15 ottobre 2020 e a definire altresì con norma primaria le eventuali misure di limitazione di libertà fondamentali. Il riferimento alle norme primarie indica la necessità di intervenire con decreti legge e quindi non con DPCM per eventuali nuove limitazioni. Il documento impegna anche il governo a individuare gli spazi più adatti ad accogliere le operazioni di celebrazione della tornata elettorale e referendaria dei prossimi 20 e 21 settembre, preferendo la scelta di non svolgere dette procedure all'interno degli edifici scolastici. La maggioranza infine chiede al governo di assicurare il pieno coinvolgimento del Parlamento nelle fasi attuative dello stato di emergenza. Non ce l'ha fatta purtroppo la bimba di 11 anni di origini senegalesi che domenica aveva rischiato di affogare della stata salvata dai bagnanti nella spiaggia antistante l'abitato di Pisogni. Purtroppo la bambina è spirata nella giornata di ieri all'ospedale di Bergamo. Il suo cuore ha smesso di battere nella stanza d'ospedale dove era ricoverata da domenica. Non ce l'ha fatta la bambina di origini senegalesi che domenica era finita sott'acqua per diversi minuti nelle acque del lago di Zeo a Pisogni. La bambina, di 11 anni, ha lottato ma è spirata nella mattinata di mercoledì. Il suo cuoricino non ha retto ma andando nella disperazione parenti e amici. Il fatto si era verificato domenica pomeriggio nella spiaggia antistante l'abitato di Pisogni e la piccola, in compagnia di una famiglia di amici, si era immersa con un'amichetta nelle acque del lago sparendo subito dopo. Immediato era scattato l'allarme con i bagnanti ad iniziare le ricerche. Ritrovata sul fondo del lago dopo parecchi minuti, era stata rianimata sulla spiaggia prima di essere trasferita d'urgenza nell'ambulanza all'ospedale di Bergamo dove purtroppo non si è mai ripresa fino a spegnersi per sempre. Si tratta dell'ennesima tragedia. Nelle ultime settimane nelle acque in territorio brisciano un'inchiesta è stata aperta per la morte del piccolo Anche, di soli sei anni, annegato nella piscina di La Marmore in città. Sul lago di Garda a Desenzano sono già invece due i decessi, a breve distanza l'uno dall'altro, di due giovani stranieri. Alla presentazione del bilancio di sostenibilità 2019 di A2R, è presente anche il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, che ha parlato dei passi avanti fatti negli ultimi sei anni e di alcuni progetti futuri. Sindaco A2A si conferma un'altra volta come una realtà fondamentale della nostra provincia anche dal punto di vista della sostenibilità. Direi di sì, sono sei anni, è un bilancio di sostenibilità 2019 che chiude sei anni di lavori, che hanno visto la nuova illuminazione pubblica con la riduzione del consumo energetico nella città, con LED, che hanno visto il cambio di sistema raccolto differenziata che ha fatto passare la città dal 38-72%, che hanno visto gli investimenti straordinari per abbattere l'ossido di azoto e l'anidride carbonica dagli impianti, che hanno visto il superamento dell'uso del carbone già nell'anno che è in corso e adesso abbiamo dei nuovi obiettivi che sono il lavoro sulla depurazione delle acque, sulla riduzione delle perdite dell'acqua, sul grande tema del teleraffrescamento della città usando il teleraffrescaldamento, della connessione dei grandi produttori di calore e di energia come le acceierie, come abbiamo fatto con Ori Marteni, ma adesso presto faremo con Anna Alfacciai dentro la rete del teleraffrescaldamento, per una città più sostenibile ambientalmente e che sia sempre meno inquinata. Passo indietro e grazie a Diretta Stadio andiamo a fare il punto di quella che è stata la serata di ieri all'Olimpico delle rondinelle del Brescia Calcio. L'ultimo viaggio in Serie A del Brescia non è affatto positivo. Il Brescia, la formazione guidata da Diego Lopez, esce sconfitta 2-0 dalla sfida dell'Olimpico contro la Lazio. Segna Correa nel primo tempo e segna il capocannoniere della Serie A, nonché possibile Scarpadoro, Ciri Mobile nella ripresa. Tra l'altro Lazio che ha giocato tutti i 90 minuti per far segnare proprio l'attaccante campano. Un Brescia che non ha sfigurato di certo, ha giocato una prestazione non certo degna di nota ma allo stesso tempo una prestazione che può essere abbastanza sufficiente. Ovviamente i valori in campo erano diversi, Lazio che non si è nemmeno tanto impegnata a fondo per andare a battere questa formazione che ha palesato l'ennesima brutta prestazione purtroppo di Sandro Tonali e la pessima prestazione di Florian Aie. Bene invece Zamara, bene Torregrossa che probabilmente meritava un gol ma benissimo soprattutto Lorenzo Andrenacci che ha disputato una gara da grande protagonista tantissime parate, se il passivo non è così pesante lo si deve al giovane portiere ex primavera del Milan. Dunque un Brescia che va a così collezionare purtroppo la venticinquesima sconfitta del suo campionato ultimo atto in trasferta, ultimo atto invece in casa e quindi congedo dalla Serie A sarà sabato con la gara contro la Sampdoria che si disputerà a Rigamonti a partire dalle 18. Ma come ripartire per il prossimo campionato? L'arrivo di Perinetti, il possibile approdo di Gigi Del Neri ma soprattutto quali sono gli obiettivi di Massimo Cellino? Abbiamo rassunto tutto nel prossimo servizio Ripartire? Sì, ma come? Questa è la domanda che attanaglia la mente dei tanti tifosi del Brescia delusi amareggiati dopo la retrocessione, tanto dolorosa quanto indigesta. Massimo Cellino si è detto pronto a ripartire dalla Serie Cadetta con Diego Lopez in panchina e un'ossatura di squadra sulle orme di quella che ha disputato il campionato di Serie A senza però Sandro Tonali. Ma sarà davvero così? Difficile credere che tutto il gruppo potrà rimanere in mercato in combe ma soprattutto pesa in molti la ferita aperta di un campionato negativo. Per ripartire ci vorrà forza d'animo di un progetto serio di rilancio quello stesso che probabilmente è venuto a mancare la base della mancata permanenza nel massimo campionato. L'arrivo di Luigi Del Neri come consulente tecnico e quello probabile di Giorgio Perinetti come direttore sportivo sono due basi solide per riprogrammare adeguatamente il futuro. Da capire chi sarà l'allenatore. Diego Lopez ha in mano un contratto di due anni ed una riconferma a voce si è detto pronto a restare ma ripartire con un tecnico non del tutto gradito alla piazza non è sicuramente affar semplice. E chi rimarrà dunque dei giocatori? Il Brescia deve necessariamente ripartire dalle colonne portanti dello spogliatoio quei giocatori che pur nelle difficoltà hanno sempre dato tutto per l'onore per la maglia. Imprescindibili per il rilancio saranno i vari Torregrossa, Bisoli e Dessena con Gastaldello a coadiuvare il prossimo allenatore dalla panchina ma rimanendo punto di riferimento per il club. Si dovrà ripartire dal giovane Papetti, prospetto sul quale fondare la difesa e poi tanti e nuovi innesti di qualità e adatti ad un campionato difficile come la Serie B. L'approccio sarà fondamentale per poter provare a riconquistare subito la promozione ma ancora più sarà fondamentale una seria programmazione. Sempre in tema di sport parliamo del caso positivo ovviamente di questa estate bresciana. Andrea Caracciolo ha firmato con il Lumezzane, con l'attaccante Lairone che ha fatto come fece a suo tempo un altro grande attaccante come Dario Ubner. Andrea Caracciolo ha Lumezzane come Dario Ubner fece a suo tempo con il Rodengo Saiano. A distanza di tantissimo tempo un'icona del calcio professionistico bresciano decide di scendere nel mondo dei dilettanti provando a cimentarsi in questa realtà dopo una carriera vissuta nei professionisti. E così Andrea Caracciolo segue le orme di Dario Ubner, il gol nel sangue per entrambi e l'etichetta di attaccanti tra i più amati con la maglia del Brescia Calcio addosso. Dopo il suo ultimo anno nei professionisti Dario Ubner scelse il calcio dilettantistico bresciano per proseguire a fare quello che più gli veniva congegnare, ovvero sia gonfiare le reti avversarie. Chiari e Rodengo saiano in Serie D, Orsa Corte Franca in eccellenza e infine Castelmella in prima categoria. Per Andrea Caracciolo, reduce dall'esperienza biennale con la Feral Pissalò è arrivata l'offerta dell'Umezzane del presidente Picchi. La voglia di mettersi nuovamente in gioco dell'Aerone in un palco scenico del tutto nuovo con meno riflettori puntati addosso, ma non meno importante, soprattutto sul nostro territorio è stato il trampolino di lancio. Un Caracciolo in versione Ubner pronto a segnare caterve di gol e perché no puntando all'ambito di riconoscimento personale del pallone d'oro Brescia oggi, storico trofeo dedicato ai migliori giocatori della provincia. Ed era questo il nostro ultimo servizio, il nostro telegiornale termina qui. Vi diamo appuntamento con l'informazione questa sera a partire dalle 19, ma non cambiate canale perché appena dopo la sigla del telegiornale andrà in onda un focus, il nostro approfondimento, questa volta dedicato alla sostenibilità, come abbiamo parlato prima dalle parole di Emilio Del Bono con il bilancio di sostenibilità di A2A. Grazie per l'attenzione e buona serata. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione e-live play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast. Presidente, 388 milioni di euro di valore sul territorio. A2A, sempre in prima linea sul tema della sostenibilità. Assolutamente, la sostenibilità è un fattore che è da un lato un fattore strategico, dall'altro è un fattore assolutamente quantificabile. Gli impatti della sostenibilità non sono una cosa teorica. Sostenibilità vuol dire trasferimento di ricchezza, vuol dire lavoro, vuol dire impatto ambientale, vuol dire avere attenzione per i propri dipendenti. È un ragionamento che a partire da quest'anno entrerà direttamente nella definizione del piano strategico della società e questo credo sia un passaggio molto importante. È parlato dei dipendenti, la sostenibilità è fatta per e dalle persone. Quindi nei punti ci sono anche, ad esempio, la parità di genere, c'è l'interesse per i giovani. Assolutamente, mi riferisco soprattutto all'azienda di cui ho l'onore di essere presidente. Quest'anno abbiamo assunto 116 persone, abbiamo assunto pressoché nella stragrande maggioranza dei casi con formula a tempo indeterminato, molti giovani, oltre il 50% erano sotto i 30 anni e la partecipazione nella nostra società dei diversi generi è assolutamente valorizzata. Abbiamo una società 2A che ha veramente un ruolo fondamentale nella decarbonizzazione. L'obiettivo di stare sotto di due gradi rispetto all'incremento in temperatura del 1880 è fondamentale e quindi questo direi che è una priorità assoluta. La seconda è l'economia circolare. Vediamo isole di plastica in mezzo agli oceani. Basta andare a vedere cosa sta succedendo in Africa con i rifiuti che li mandiamo dall'Occidente o nei paesi del Far East per capire che così non può andare avanti. E quindi che un'azienda come la nostra, che è in grado sui propri territori, di azzerare come ha fatto dei conferimenti in discarica e chiudere quindi il ciclo dell'economia circolare gestendo da un lato la raccolta differenziata che a Brescia ha raggiunto livelli assolutamente lusinghieri e dall'altro lato di bruciare e trasformare quindi in energia quello che se no sarebbe conferito in discarica è sicuramente un obiettivo importante. Cosa si può fare di più? Si può trasformare in biometano l'umido urbano e quindi abbiamo chiesto la realizzazione di impianti anche in provincia di Brescia per poter fare questo per alimentare gli autobus di Brescia trasporti con le nostre bucce di banane e poi stiamo lavorando con imprese nel mondo dell'edilizia per capire come riutilizzare le ceneri di scarico del termo utilizzatore che sono oggi l'unico rifiuto che all'interno del ciclo va in discarica. È un bilancio di sostenibilità 2019 che chiude sei anni di lavori che hanno visto la nuova illuminazione pubblica con la riduzione del consumo energetico nella città con LED, che hanno visto il cambio di sistema raccolta differenziata che ha fatto passare la città dal 38-72% che hanno visto gli investimenti straordinari per abbattere l'ossido di azoto dell'anidride carbonica dagli impianti che hanno visto il superamento dell'uso del carbone già nell'anno che è in corso e adesso abbiamo dei nuovi obiettivi che sono il lavoro sulla depurazione delle acque, sulla riduzione delle perdite dell'acqua sul grande tema del teleraffrescamento della città usando il teleriscaldamento della connessione dei grandi produttori di calore ed energia come le acceierie come abbiamo fatto con la Rimartene, ma adesso presto faremo con Anna Alfacciai dentro la rete del teleriscaldamento per una città più sostenibile ambientalmente e che sia sempre meno inquinata. I punti del bilancio di sostenibilità che riguardano appunto l'ambiente cosa significa questo per Brescia? Significa fare dei passi avanti nella direzione di un futuro più sostenibile uno dei punti cardine è tutto il tema della decarbonizzazione con l'arrivo di un risultato già nel 2020, molto prima della scadenza del 2025 significa una raccolta differenziata che è cresciuta di tantissimi punti nel giro di pochi anni dal 38% siamo arrivati al 72% significa avere dei servizi di qualità che tengono conto anche della parte ambientale. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!